Commozione e gioia all'Ariston. Durante l'esibizione del maestro Giovanni Allevi, il grande pianista e compositore italiano, tornato a suonare per la prima volta sul palco di Sanremo dopo una lunga pausa dovuta ad una malattia, un mieloma multiplo. Il suo ritorno ha commosso tutta l'Italia, in particolare i due luoghi a cui Allevi è legato Ascoli Piceno, che gli ha dato i Natali, e Arezzo, dove Allevi è nato musicalmente. Ogni sabato, per circa tre anni, siamo negli anni 90, Allevi ha preso il treno per arrivare nella città di Guido Monaco e seguire le lezioni del maestro Carlo Alberto Neri nella sua Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale. È stato un vero piacere perché lui affrontava tanti sacrifici, come per esempio un viaggio notturno in treno da Ascoli Piceno e Arezzo. Ci voleva tutta la notte in treno, cambiando treni, in queste linee secondarie, eccetera, eccetera. Per cui arrivava la mattina, mi ricordo, alle 10 del sabato e faceva lezione con entusiasmo, nonostante la fatica. Ha dato un bel esempio anche nella malattia. Sì, certo, nella malattia. Ma io mi ricordo fin dalle anni di studio, in cui lui ha fatto tutto il corso di studi di pianoforte fino al decimo anno, risolto con un bellissimo 10, poi ha fatto la laurea in filosofia e ha fatto pure in composizione, quindi tre cose molto sostanziose. Ha avuto una svolta nel senso compositivo, nel senso che ha trovato la possibilità di fare un bel disco di musiche sue, che ha avuto molto successo e si è incanalato, diciamo, come musicista, come pianista di musiche sue. Un talento unico è certo quello di Giovanni Allevi, ma è proprio il suo maestro a lanciare una forte provocazione al mondo, in questo caso della scuola, secondo lui fortemente deficitario di una vera cultura musicale. La scuola dell'obbligo, insomma, questa parte non è... La nostra scuola è una scuola letteraria, viene dalla riforma di cento e più anni fa, che naturalmente ha escluso la musica dai licei, per esempio, perché la musica era un'arte pratica. I nostri licei non hanno mai ospitato una storia della musica, perché si deve studiare storia dell'arte e non storia della musica? Perché Michelangelo è più importante di Bach, di Beethoven? Ecco, io credo che siamo veramente all'anno zero ancora.